Oh, Tommaso! Ehi, Giuseppe! Oh, all'una la 212 deve mangiare, eh! Tranquillo! Oh, oh! Qualch'è il giornale di oggi? Sì! I? Aspetta, aspetta! Che non l'hai letto! Il giornale! Oh, che ho letto! Vè, vè, vè! No, no, no! Aspetta! Ma no, seguire qualcuno! Un minuto, quando vedi qua che sono venuto sopra il giornale! Sopra il giornale, tu! Cronica di Mungivacca, leggi! Piacere proprio stare! Bello stare! Scusa, dove? Non vedo niente! Aspetta, non lo sta l'articolo! Eh, questo qua è l'articolo! È bello che... Il giornale! Scusa, sarà che non sono buono io, scusa! Dove sta scritto? Hai ragione, dunque, il rigo, il rigo... Ah, il rigo... Questo qua, vè! Eh, let's! Il presidente parlava e la folla applaudiva! Adostante, dove stai? In mezzo alla folla! È bello stare! Che bel discorso che ha fatto, proprio in faccia del presidente, stavo io! Eh, ma vieni! Eh, la foto, poi domani la metto, vedi la foto! Eh, la foto, non ce la spazio! È certo!